Musica 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 Poi venite conto quanto si è importante come ho visto il giorno pensate a uno scenario di peso come sarebbe stato per me oggi Applausi 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 Sono contento, lo sai sono contento proprio con una fotografia familiare Un padre può sbagliare un figlio può sbagliare ma se non c'è contraccione nella vita non va niente avanti della famiglia né in un lato del comune quindi oggi sono felice di passare il testimone agli diamo passo prima di firmare per paolo io volevo dire il sindaco pensate che scenario sarebbe stato se non ci fosse stato io pensate per me soprattutto dico senza polemica per il passato della campagna elettorale pensate che non sarebbe stato per cinese non pensavo che durante la campagna quando questo tavolo ho ricevuto un avviso di garanzia è il sindaco applausi 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 voi sapete che voglio bene questo paese e voglio amministrare questo paese ricevo la fascia da quello che io ritengo il miglior sindaco che Cini si abbia potuto mai avere un sindaco che rimarrà alla storia per la via del mare opera colossale che mai nessun altro amministratore è riuscito a fare e probabilmente riuscirà a fare sarà ricordato possiamo dire, non dico eterno perché con tutte le cose finire ma per i prossimi 500 anni l'amministratore ha fatto l'opera più grossa che si poteva fare in questo paese grazie io tra 10 minuti dopo che firme verbale mi metto a lavorare assieme a tutti grazie 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 a tutti